Salve, sono Luciano Novielli, sono consulente tecnico commerciale e anche consulente tecnico grossisti, aria Puglia e principalmente Bari. Il mio lavoro è divertente, entusiasmante, alle volte ci sono un po' di momenti giù, però il lavoro paga, basta solo aumentare la voglia di arrivare all'obiettivo e tutto si risolve. La pezzina degli occhiali, il cellulare, il corso del lavoro ovviamente. Il mio cliente ideale è una persona umile, simpatica, alla portata, che sia sulla stessa linea d'onda, più semplice possibile, per poter appunto parlare in maniera diretta. Credo sia un retaggio culturale dove si identifica questo lavoro più nell'uomo. Nel futuro le cose cambieranno sicuramente. Allora da piccolino il sogno era fare il barbiere, però sono nato in questo settore, in famiglia ti vive, si respira questo settore, quindi... La mia serie preferita... Montalbano. Inter.